Musica Nel corso degli ultimi 30 anni l'intricata trama dei rapporti malavitosi tra camorra, politiche e complessi industriali prevalentemente del nord ha messo in pratica nel territorio tra le province di Napoli e Caserta una vera e propria operazione criminosa contro l'ambiente e la salute dei cittadini che ha duramente ostacolato tra l'altro lo sviluppo dei luoghi della zona. La terra dei fuochi è ormai vista come simbolo dei traffici illeciti e dei rifiuti della pericolosità dell'ecomafia con effetti che si diverberano tragicamente sul presente e sul futuro delle popolazioni. Per questo motivo, almeno negli ultimi anni, la questione è stata posta all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale e molti sono stati gli interventi, gli studi, le indagini e gli approfondimenti svolti dal mondo istituzionale, accademico e dell'associazionismo. Il governo, i singoli ministeri, la regione, gli enti di prossimità, le università, i comitati scientifici, gli osservatori tutti hanno prodotto dati volti ad analizzare cause, caratteristiche ed evoluzione dei processi che tuttavia non risultano oggi inseriti in un unico contesto, in un unico centro di aggregazione disponibile a tutti i soggetti coinvolti. Ed è proprio questo l'obiettivo che ha mosso la città metropolitana e il comune di Napoli che hanno siglato questa mattina nella sala Mariella Cirillo di Palazzo Matteotti la carta di intenti che istituisce il centro osservatorio permanente sulle indagini e sulle istanze relative alla terra dei fuochi, un contenitore in cui mettere in rete tutte le attività inerente ai fatti, agli atti e ai risultati prodotti in materia evitando sprechi di forze ed inutili sovrapposizioni. Questo è un momento importante e il compito lo avranno i comitati e le associazioni. Noi abbiamo semplicemente creato finalmente il contenitore che mancava abbiamo accorciato le distanze tra città metropolitana, l'area vasta, il comune di Napoli insieme nella grande logica di mettere insieme i territori, grande merito alle associazioni, ai comitati, alla Chiesa che ha avuto un ruolo fondamentale e che ringraziamo per questo. Il contenitore ha anche una valenza scientifica, cioè finalmente mettere insieme i saperi, il saper fare, il saper comunicare la verità, la trasparenza e dare sicurezza ai cittadini. Il centro osservatorio sarà aperto a tutti i contributi, a tutte le istituzioni che vorranno farne parte, la regione e la provincia di Caserta, formalizzando, come ha sottolineato il sindaco Luigi De Magistris, sempre di più l'idea di democrazia partecipativa che sta informando l'azione della città metropolitana. Il primo atto del centro, infatti, sarà proprio quello di convocare un'assemblea pubblica per invitare tutti i soggetti interessati ad aderire. È una firma in qualche modo storica, perché la città di Napoli che ha dimostrato in questi anni di portare a compimento dei risultati straordinari in materia ambientale, pensiamo il no all'inceneritore, il no alle discariche e l'eliminazione dell'emergenza di fiuti, e dall'altro la città metropolitana che vuole estendere queste lotte sull'intero territorio della città metropolitana, in modo che si può avere un'unica strategia ambientale su tutta l'area metropolitana, nel senso che se si fanno battaglie per il no all'incenerimento e alle discariche, queste vengano estese in tutto il territorio della città metropolitana. Poi un altro aspetto storico di questo atto è che si crea un luogo qui a Piazza Matteotto in cui insieme gli enti di prossimità, in particolare Comune Napoli e città metropolitana, si incontrano con i tanti comitati, movimenti e associazioni che in questi anni hanno fatto la storia della lotta in difesa dei territori contro le comafie e contro la terra dei fuochi, proprio perché queste battaglie si vincono a mio avviso insieme, ognuno con il suo percorso e con la sua autonomia, e poi per avere forza maggiore anche nei confronti della regione e nei confronti del governo centrale, perché qui ci sarà dialogo, si ascolta, ma si elaborano proposte, si indicano strategie ed è il modo con cui vogliamo far nascere e consolidare questa esperienza della città metropolitana, non si decide dall'alto.